Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un board game di cui veramente ci sarebbe tantissimo di cui parlare, ma cercherò di restringere un po' anche perché, ora vi spiego, questo non è un board game come tutti gli altri, ma è una dichiarazione di amore veramente dello sviluppatore verso i giochi da tavolo, perché ora poi vi faccio una piccola introduzione. Comunque si parla di Battle Stations, un gioco cooperativo con tanto di Dungeon Master, un gioco che si definisce un misto fra board game e un GDR, quindi un gioco da tavolo e un RPG, perché ha una modalità storia, come abbiamo visto in tanti giochi, oppure singola shot, singola avventura, ma la parte più importante è sicuramente la modalità campagna. E quella che vedete qui è la seconda edizione. La prima edizione è durata poco sul mercato perché anche i componenti erano un pochino scarzetti, tra virgolette, e hanno fatto nel giro di neanche un anno subito la seconda edizione, un secondo Kickstarter che è andato veramente, veramente molto bene. E questo è un gioco che va da uno, a parte che uno è un po' difficile, perché le regole dicono che se c'è un solo player bisogna mettere dei bot, un'intelligenza artificiale. Comunque va da uno a nove giocatori, dove uno dei giocatori deve sempre essere, per forza perché il gioco se no non funziona, il Dungeon Master. Una specie di hero quest, insomma, per farvi capire. Gruppo di giocatori cooperativo che muove gli eroi, e il Dungeon Master che muove i mostri. E la cosa bella di questo Battle Station, intanto io ringrazio la Gorilla Games che ci ha fornito una copia, tra l'altro chiesto, è arrivato nemmeno nei giro di un mese, velocissimo, per la recezione. E spero di non sbagliare la pronuncia. Un gioco creato da due fratelli, di cui uno, vedete il nome qua giù in basso, Jeff Siadek, che non me ne voglia veramente. Spero di non sbagliare il cognome. Ma intanto vi ringrazio veramente di cuore per avermi fornito una copia. E questo è un gioco onesto e sincero, come sempre, di cui fino a due mesi fa non sapevo niente. Ma perché è un gioco di nicchia? Ora, onestamente, anche voi nei commenti ditemi quanti di voi conoscevano Battle Stations. Ok, sì, che è un gioco bello, per me è, come dire in campo videogiochi, un tripla A nei board game, perché è fatto veramente molto bene, però non è quel classico gioco mai portato in Italia, tra l'altro, di cui si sente parlare molto spesso. è come un po' un deep madness, non è che tutti lo conoscono. Ma la cosa bella per cui vi ho detto, non è un board game normale, ma è veramente una dichiarazione di amore verso il genere, perché questo Jeff, appunto, lo sviluppatore, insieme a suo fratello, ci hanno messo, tipo, per fare questo gioco, ovvio, i vari progetti e le varie evoluzioni che poi hanno portato a questo prodotto, ci hanno messo una quindicina, una ventina d'anni. Quindi il lavoro dietro è tanto, ed è partito come un progetto da fare con gli amici, il sabato o la domenica, per giocare al tavolo. Ma ne è uscito veramente, secondo me, uno dei giochi da tavolo cooperativi, ma proprio anche, non tanto andando a vedere il lato cooperativo, quanto del board game in sé per sé, più belli mai creati. E questo è un gioco che, come U-Boat, che vi ricordo, andate a vedere in video, se non l'avete visto, della Cranio Creations, questo è un gioco per tutti gli amanti dei giochi cooperativi, ma a maggior ragione, dello sci-fi e dei giochi spaziali. Se vi piace Star Trek o anche Mass Effect, questo è in assoluto il gioco che fa per voi. Passiamo all'unboxing. Tra l'altro, chiedo scusa, la pronuncia giusta, ho visto il video su YouTube, è Jeff Sayadek, che tra l'altro è stato lui stesso a rispondermi alla mail, e quindi lo ringrazio diecimila volte, e questa è la confezione del gioco. Vediamo il classico scenario futuristico spaziale, in cui si vede un pianeta, e delle navi in battaglia. La scatola è molto grande, perché vi faccio sempre vedere rapportata alle dimensioni di una mano, ed è bella grande come scatola, ma perché anche c'ha tantissimo contenuto all'interno. Non parliamo soltanto di tante miniature, ma soprattutto di tanti tile di gioco, ed è veramente, veramente molto bello. Apriamo. Il regolamento di gioco, di appena 30-32 pagine, una cosa del genere, ed è un gioco, ragazzi, facilissimo, veramente ha tre regole in croce, lo rendono molto snello, veloce, però per tutti gli amanti dei giochi hardcore, che comunque cercano una sfida in più, c'è anche questo. Questo invece è l'Advanced Rulebook, molto più grande, e che tra l'altro comprende nuove razze aliene, nuove regole, nuovi scenari, perché nel gioco base c'è una campagna di 10 scenari, qua giù dentro ce ne sono altri 50, e poi in più il Dungeon Master ne può creare di nuovi, e guardate tra l'altro quanto è grande, veramente bellissimo. Token. Plancia di gioco, ovviamente divisa nei vari settori della nave, che poi vi farò vedere ora con il regolamento della prima avventura del gioco. Mappa spaziale, perché in questo gioco ci si muove sia a bordo della nostra nave spaziale, che ovviamente la nave si muove nello spazio, e girando dall'altro lato vedete mappa con un campo di asteroidi, nel caso la missione ovviamente lo richieda. schede dei personaggi, come nel buon vecchio Hero Quest, ogni volta che si finisce un'avventura si passa di livello. Miniature, di cui tra l'altro ve ne faccio vedere due che sono quelle più grandi. Nel gioco ci sono esseri umani ovviamente, e diverse razze aliene, tra cui ci sono anche ovviamente razze tipo android, robot, che un po' ricordano i siloni, e questo è uno di quelli che potete usare all'interno del gioco e trovarlo durante un'avventura. o ad esempio un altro tipo di alieno che questa volta che ricorda un elefante o comunque una creatura del genere. Questo gioco si rifà un pochino ai vecchi videogiochi se vi ricordate dove le creature aliene che si trovavano nello spazio se vogliamo anche Mass Effect avevano un po' l'aspetto degli animali sul pianeta Terra ed è molto bellino e caratteristico, dai, secondo me è quel tocco di anni 80 che ci rimanda un po' indietro. Carte, evento ed equipaggiamenti, carte, personaggi e o mostri, dadi a sei facce questo gioco usa soltanto i dadi da sei marker che servono per tenere il conto della potenza dei motori delle armi e di tutto quello che riguarda la nave e basette colorate che a parte per identificare i personaggi ma questi si mettono anche sotto i mostri perché ad esempio personaggi con la basetta rossa sono soldati marina personaggi con la basetta verde sono scienziati e così via così da riconoscere molto facilmente la classe del personaggio però vi faccio vedere una partita allora ragazzi in questa prima avventura del gioco in questa prima partita missione vi consiglio intanto di fare quella che vi chiede il gioco perché è bellino in queste dieci missioni vi insegnano mano a mano tutte quante le regolette e già vedete che ad esempio nella seconda missione vi farà utilizzare delle abilità o delle cose in più delle varianti appunto un pochino più hardcore fino ad arrivare alla dieciera missione dove saprete padroneggiare il gioco al 100% la mappa di battle stations è veramente bella e soprattutto questa prima di partenza che dà secondo me un aspetto open world e sandbox unico che non avevo mai visto in un gioco del genere perché partiamo nella prima missione dove siamo attraccati con la nostra nave c'è mia moglie poi sta facendo le riprese questa qui è la nostra nave vedete no la forma che questa qui è l'helm il ponte di comando la sala dei missili i cannoni la zona del teleport i motori iperluce hyperdrive e poi in fondo i due motori gli engine della nave e vedete che la nostra nave è attraccata tramite l'helm alla stazione orbitale che è qui accanto quindi vedete diventa una mappa unica questi sono i nostri personaggi il nostro gruppo di eroi che il gioco ci dà all'inizio standard però ragazzi in tutte le avventure successive tranquilli ve li potete anche creare da zero comunque questi sono i nostri eroi e praticamente questa missione principale dice che l'ambientazione del gioco di battle stations vede il solito insomma universo in guerra e siccome sta per scoppiare una guerra e servono tutte le navi possibili all'alleanza galattica noi siamo attraccati per fare il classico rifornimento un po' rifornire motori e tutto quanto e anche ovviamente l'ibagioni e tutto quanto per l'equipaggio ci siamo fermati in questa stazione orbitale e mentre ci siamo fermati un equipaggio della stazione orbitale è montato a bordo della nostra nave per i consueti controlli infatti vedete questi qui sono tra molte virgolette nemici sono montati sulla nostra nave per dei controlli a un certo punto un ufficiale scende dalla nave e ci viene a dire che la nostra nave è appena stata requisita per usarla nella flotta stellare nell'esercito e per portarla in guerra ovviamente noi equipaggio della nostra navetta ci opporremo per riprendercela quindi la missione sarà entrare a bordo della nave andare al ponte di comando l'elm staccare la navetta dal collegamento al ponte che sarebbe questo qui con la stazione orbitale e andarcene questa qui è la prima missione e ora bene o male vi faccio vedere come funziona questa è una scheda riassuntiva di tutte le azioni ovviamente ce ne sono molte di più nel regolamento avanzato ma voi fregatevene per ora vi servono soltanto queste per le quattro classi di personaggi presenti nel gioco ovvero in rosso con la basetta rossa quindi che avete visto prima il nostro leone ad esempio quell'alieno di razza che siamo un leone di colore rosso sono sempre marine o soldati di colore blu sono sempre ingegneri di colore giallo sono le azioni ad esempio per i piloti e di colore verde invece sono sempre le azioni per l'ufficiale scientifico quindi lo scienziato a bordo della nave più la parte qua giù ci indica i danni che subiremo alla nave durante i combattimenti ve lo faccio vedere in una parte più avanzata del video e il valore del lull della nostra nave che è qua giù lull check ad esempio vi ho fatto vedere questo è il soldato del nostro equipaggio questo invece col colore verde è uno scienziato dei nemici che avete visto sono a bordo della nave per fare i controlli e queste sono le schede questo gioco è bello ragazzi perché non è che siamo umani contro gli alieni o comunque razza aliene qui qualsiasi cioè potremmo fare alla rovescia invece della missione potrebbe diventare lui il cattivo e lui il buono a bordo dell'equipaggio quando voi vi scegliete una classe e una carta prendete la carta la razza e ovviamente il colore a seconda del ruolo che volete dargli quindi lui ad esempio l'avete voluto fare soldato prenderete la carta rossa se lo voleste fare scienziato prendereste la carta verde e cambiereste la basetta sotto comunque sulla scheda cosa ci dice qui con questo valore qui il valore di forza del personaggio ma che non è tanto un attributo di combattimento quanto gli oggetti che può portare questo personaggio aggiungete sempre uno al valore che è qui quindi lui che ha un valore di uno più uno due potrà portare due oggetti sotto il valore di combattimento in rosso che ha quattro quindi sia in corpo a corpo che a distanza ogni volta che fa un combattimento il numero di dadi che tira il valore scusate che deve aggiungere al tiro di dado è sempre questo qui quattro come ingegnere a uno lui ovviamente essendo un soldato non ha tante conoscenze di ingegnere di ingegneria nemmeno di pilotare navette e addirittura un valore di zero per abilità scientifiche da quest'altra parte invece vediamo il movimento quindi lui si muove di sei la vita quindi a otto punti ferita il terzo valore è il valore che va raggiunto eguagliato o superato per colpirlo quindi per colpire lui sia in corpo a corpo che a distanza bisogna sempre fare un otto più con i dadi il valore di fortuna che il valore di fortuna serve per ritirare un dado quindi si può usare un solo valore di fortuna un solo punto di fortuna ogni turno per ritirare non tutti i dadi ma uno soltanto ha scelto ovviamente quello più basso e l'ultimo quante mani ha questa razza aliena perché lui ne ha due ma ci sono razze aliene che ne hanno tre tipo ne so l'elefante può usare anche la proboscide per attaccare e questo è il numero di oggetti che lui potrà portare di armi quindi un personaggio con due mani potrebbe usare che ne so due oggetti e una mano però con tre potrebbe invece usare tre armi per sparare o cose del genere completano la scheda le abilità aliene quindi l'abilità di questa razza aliena che è scritta qua su in cima l'equipaggiamento di partenza che ha che è segnato sulla scheda in più l'abilità speciale della classe in questo caso il soldato che tranquillamente e comodamente senza ammattire a girare per nessun manuale è scritta dietro come vedete sulla scheda del nemico i valori sono uguali quindi useremo quelli che sono scritti qua come vi ho detto all'inizio questa missione ci vede scappare dalla stazione orbitale per tornare a bordo della nostra nave stazione e ovviamente i nemici faranno di tutto per fermarci la stazione orbitale stessa una volta che ci staremo staccati per andare via ci sparerà contro però anche lì è una parte che vi dico successivamente le azioni che si possono fare che i personaggi possono fare prima di tutto muovono sempre gli eroi perché praticamente le fasi di gioco sono movimento della nave che ve lo faccio vedere dopo ma tanto ora siamo fermi movimento dei missili anche quello ve lo faccio vedere dopo movimento dei personaggi e infine movimento dei mostri i personaggi possono fare un movimento e un'azione fare un'azione ragazzi vuol dire anche usare un'abilità del personaggio quindi o un attacco o usare un'abilità di quella razza o di quella classe insomma del personaggio che state utilizzando quindi potete fare un movimento seguendo di quante caselle si muove vi ricordate il mix il leone che vi ho fatto vedere prima il soldato si muove di 6 quindi potrebbe fare 1 2 3 4 5 6 ah ricordatevi sempre che ci si muove ortagonalmente non ci si può muovere in diagonale quindi contate sempre mai le diagonali se lui si muovesse ad esempio di 6 farebbe 1 2 3 4 5 6 per arrivare a bordo della nave ovviamente non è in contatto di base perché ve l'ho detto le diagonali non contano però potrei fare anche un doppio movimento perché si può dire io sai che c'è voglio fare un'azione di corsa non farò nessuna azione dopo il mio movimento quindi invece di muovermi di 6 mi muoverò di 12 farò più movimenti quindi lui se si muove qua giù di 6 arriverà esattamente in questo punto ora visto che la nostra missione è di combattimento ovvero che bisogna liberare la nave per andare via io farò un attacco su questo personaggio come vedete poi vi faccio ovviamente una carrellata però ad esempio sul ponte di comando ci sono vi sposto un attimino i personaggi delle stelline gialle il gioco si chiama battle stations come vi ho detto e queste sono le postazioni di battaglia quando su un tile di gioco una sezione della nave o anche della stazione orbitale vedete delle stelline sono dei punti di interazione ovviamente questo è il ponte di comando giallo e quindi il pilota sarebbe quello più indicato ad andare a una delle console per muovere la nave se fosse stata che ne so una zona rossa di attacco come il lancia missili o i cannoni sarebbe stato più indicato invece il personaggio rosso quindi il colore del tile è anche sempre il colore del personaggio però per quanto il leone vi ho detto che ha un'abilità di pilotare di 1 mentre invece il soldato scusate mentre invece il pilota ha un valore di pilotaggio di 4 è l'esatto opposto però chiunque può fare qualsiasi azione in questo gioco cioè se io arrivo qui per primo con lui col soldato e dico ho sbagliato a fare l'azione vabbè provo comunque a far muovere la nave lo posso fare comunque con la differenza che tirerò due dadi perché le azioni sono sempre tirare due dadi da 6 e eguagliare o superare una difficoltà che ci dà il gioco più ovviamente il valore che io ho in quell'abilità quindi con lui aggiungerei soltanto un più 1 al mio valore perché ho 1 a pilotare con quest'altro invece aggiungerei un valore di 4 al tiro dei dadi ad esempio se io arrivassi qui e volessi pilotare la nave con lui per provare a fare un'azione per staccare la nave c'è anche un'altra cosa da dirvi precedentemente ma intanto che siamo qui io ormai ve la spiego cosa dovrei andare a dire secondo l'indicatore che vi ho fatto vedere prima che sarebbe praticamente questo qua di tutte le azioni che i personaggi possono fare il gioco mi dice l'azione di manovra deve essere fatto in una console dell'helm del ponte di comando e per spostare o muovere la nave cioè spostarla perché le navi vanno sempre in avanti o farla curvare sulla mappa galattica per seguire in un'altra direzione devo fare un tiro che equivalga o superi a due volte la grandezza della nave la size che ora vi spiego come funziona più due volte due per la velocità attuale della nave quindi se la velocità attuale della nave dovesse essere uno noi faremo il raddoppio quindi due è il primo valore che è il doppio della velocità attuale della nave mettiamo a caso stiamo muovendo quindi sarebbe due più due volte il size della nave il size della nave ragazzi è facilissimo prendete tutti quanti i tile della vostra nave in questo caso la nostra navetta da combattimento è di nove tile e è un terzo il size della nave è sempre un terzo quindi nove diviso tre è tre quindi dobbiamo raddoppiare la size della nave quindi tre per due sei ed aggiungere la velocità attuale che abbiamo detto facciamo finta sia di uno quindi uno uno due sei più due otto quindi dovrò tirare i dadi fare almeno un otto però ovviamente ricordatevi che lui ha un'abilità di pilotare di uno soltanto quindi comunque dovrei andare a aggiungere un uno al risultato dei dadi facciamo caso che io stia tirando per farvi un esempio ho fatto 5 più 4 9 più uno per la sua abilità 10 sono riuscito nell'azione e posso fare un'azione di pilotare alla nave che sia farla andare avanti o farla muovere stessa cosa se io come vi ho fatto vedere prima lui è qui io sono qui ho fatto il mio movimento e quindi dico ok ho fatto il mio movimento a questo punto qui faccio un'azione di attaccare perché quello che devo fare in questo momento qui è attaccare lui per ammazzarlo e per riuscire a intanto da levarlo dal ponte di comando e poi a scappare l'azione di attaccare come vi ho detto all'inizio il person all'attacca è sempre tirare due dadi perché si tirano sempre due dadi per l'abilità più l'abilità del personaggio che nel suo caso è 4 e bisogna levare come risultato cioè eguagliare o superare come risultato la difficoltà che è segnata sulla carta col mirino del nemico quindi un valore di 8 io vado a tirare sempre i due dadi aggiungo 4 perché questa volta il soldato è più bravo a sparare tiro i dadi e faccio 4 più 2 6 non basterebbe ovviamente però più 4 ho fatto 10 e quindi ho colpito il nemico il danno che le andrò a fare è scritto sulla scheda se attacco a distanza con un blast le faccio 2 di 6 meno 1 quindi vado a tirare 2 di 6 ha avuto anche il culo faccio 10 meno 1 9 lui quanti punti ferita ha 8 ho fatto un colpo praticamente critico e lo stendo e lo butto in terra i nemici muoiono quando raggiungete l'ammontare massimo di punti ferita che hanno loro praticamente sono rimossi dal gioco quando un eroe arriva a 0 punti ferita non è morto ma finisce incapacitato gli eroi muoiono soltanto quando scendano di altri 6 danni sotto lo 0 quindi quando il vostro personaggio dovesse arrivare a meno 6 perché potrebbe continuare a ricevere ferite anche nel corso dell'avventura perché i nemici che vi ricordo non sono mostri dall'intelligenza artificiale ma sono mostri a dungeon master potrebbero dire sai chi c'è io inferisco su lui per terra perché può inferire anche su quello in terra se lui dovesse arrivare a meno 6 morirebbe non vi preoccupate se vi muore un personaggio durante un'avventura perché nell'avventura dopo ce lo riavete come clone ovviamente non passa di livello non fa punti esperienza però lo riporterete a bordo della nave e non sarà morto o deceduto quindi questo è il combattimento l'ultima regola è che se hanno un'armatura a parte che un'abilità non dica qualcosa di particolare come lui perché lui ha un'armatura di partenza sottraete una al danno l'armatura semplicemente sottrae una al danno almeno che non abbia un carapace o qualcosa di alieno che invece potrebbe assorbire come armatura da battaglia molto di più ora vi faccio vedere un po' come funziona la nave come vi ho detto all'inizio ragazzi tutti possono fare tutto ma è normale perché se ci fosse morto il pilota chi la muove la nave e ci si manda il primo libro che ci sa però facciamo conto che il pilota sia ancora vivo nel ponte di comando regolamento base perché nelle regole avanzate si possono fare molte più cose io vi dico il regolamento base all'inizio che è quello che vi serve per fare le prime 10 avventure che sono la campagna del gioco nel ponte di comando è possibile aumentare la velocità della nave di uno di un'unità che vi faccio vedere qua sulla mappa spaziale come funziona o far roteare la nave scusate per cambiare rotta quindi o aumentare la velocità dei motori o cambiare la rotta questo è quello che si può fare nel ponte di comando con le regole base nella zona dello scienziato andando nella battle station qui si possono fare le più grandi azioni del gioco per me se vi posso dare un consiglio se trovate insomma un gruppo per giocarci fate lo scienziato che è la parte più divertente perché può fare teleport perché nel gioco ci si può teleportare come su star trek durante una battaglia fra navi è possibile che i nemici vi abbordino o che voi abbordiate i nemici con il teleport può far fare il jump drive alla nave quindi il warp oppure può fare una scansione di un'antanave che abbiamo accanto per vedere punti devoli falle cose del genere o addirittura può anche costruire medikit o perché no cloccare la nave quindi nascondere la nave e sarà più difficile da sputtare nello spazio e colpire dai cannoni nemici battle station dei cannoni quindi qui ci andrà per la maggior parte il soldato serve per sparare il soldato è quello che a parte combattere deve essere più forte è quello che fa menazione perché alla fin fine può da questo tile qua giù sopra lanciare i missili mentre invece da quello in cui si trova sparare con i cannoni quindi sono facili le azioni che può fare sono queste e l'ingegnere che è la figura secondo me più importante del gioco andando nei reattori della nave nell'engine sempre che ovviamente siano ancora in funzione può pompare energia alla nave e ora subentra in gioco un'altra cosa che è la cosa più importante che vi faccio vedere comunque ricordatevi l'ingegnere è quello che ripara perché nel caso un settore si è rotto l'ingegnere lo può riparare lo scienziato è quello che oltre a fare le azioni nella sua stanza può anche curare perché è quello che c'è i medici che può curare gli altri personaggi il pilota è quello ovviamente che ha l'abilità di pilotaggio della nave e alla fin fine il soldato che è quello che usa i cannoni e i missili ed è quello più forte nel combattimento vi ricordo una cosa importantissima quando ecco forse l'unica cosa che dà un vantaggio ad esempio tolgo questi qui almeno non danno fastidio qualcosa che dà un vantaggio a un ingegnere rispetto a uno scienziato di usare la sua stanza ovvero questa è una stanza blu quindi deve essere usata meglio o verrà usata meglio da un personaggio con la basetta blu un ingegnere se lui va a usare questo la battle station non c'è nessun problema la usa però ha unicamente un valore più basso se ci va un personaggio blu ovvero un ingegnere ad usarla non solo ha l'abilità più alta però può fare anche un ritiro perché lui ovviamente è esperto essendo esperto nel settore dovrà non è che si può basare tutto su un valore più alto rispetto ad un'altra classe lui andrà lì e farà un tiro di dado che al solito è la sua abilità più una difficoltà e tutto quanto farà un tiro di dado magari se fosse uscito un 6 o un 2 lui potrebbe dire ma sa che c'è il 2 lo ritiro un dado soltanto e magari poteva avere un risultato migliore ovviamente il secondo risultato che esce ve lo dovete tenere queste sono le azioni che possono fare i personaggi questa è la scheda che dovrà sempre essere messa in una parte del tavolo insomma dove tutti possano arrivare ma se vi posso dare un consiglio mettetela più vicina ai reattori e al giocatore e al personaggio quello che muove insomma la classe dell'ingegnere e in più avete deculsione metteci sopra allora come vedete ci sono vari valori che partano da 0 fino a un massimo di 6 per quanto vi ricordo che il valore di una nave non può mai salire oltre la size della nave che ve l'ho detto la size della nave è il conteggio dei tile che la compongono diviso per 3 praticamente un terzo quindi una nave come questa che ha size 3 potrà arrivare massimo di potenziale a 3 non potrà andare a 4, 5, 6 quelle per le navi più grandi le navi da guerra che non è questo caso questa sezione OOC è il rollio della nave che praticamente è una regola speciale delle regole avanzate non la guardate nemmeno per iniziare tanto non ve la chiede mai nella campagna di partenza lo speed della nave l'helm che è il ponte di comando i cannoni e gli scudi vi ricordate vi ho detto l'ingegnere va nella battle station nell'engine nel reattore della nave e tirando dei dadi facendo la sua azione se l'azione ha successo potrà mettere un punto in una di queste caselle se ovviamente non dovesse avere successo non darà nessun punto energia alla nave vedete che anche i cursori che ora ci metto sopra sono colorati tipo questo per lo shield è verde quello per il gun è rosso quello per l'helm è giallo e poi per ultimo non meno importante lo speed della nave questa è dare e l'energia che si può dare alla nave è questa casella questa casella di qua non la guardate perché serve praticamente si può attivare unicamente dal ponte di comando mentre invece questa qui si può attivare direttamente dal reattore quindi il personaggio cosa succede la nave inizialmente parte con energia zero quando i reattori saranno accesi almeno uno dei due in funzione non rotto e quindi il valore di movimento della nave sarà almeno uno la nave ogni turno genererà energia e quindi tutti quanti questi tre saliranno a uno ma resteranno fermi a uno non è che nel turno successivo salgano a due o tre no il massimo di potenziale di base di scintilla di base che può dare il reattore alla nave è un valore di uno ciascuno ammettiamo caso che l'ingegnere abbia fatto un tiro o nella battle station del core della nave del reattore e dirà va bene ora ho guadagnato un punto perché sono riuscito nel tirabilità questo punto visto che dobbiamo attaccare una nave lo metto ai cannoni e quindi lo porta a due oppure potrebbe semplicemente dire ma sai che c'è a me mi serve fare un'azione nell'elm perché mi serve cambiare velocità e ruotare la nave cambiare rotta quindi lo potrebbe mettere al ponte di comando oppure se ci stanno sparando contro lo potrebbe mettere agli scudi ogni qualvolta che un personaggio usa un'azione in una di queste tre battle station ovvero facciamo caso che tutti i valori siano uno il pilota nella plancia di comando aumenta la velocità quindi leva uno di potere perché ogni volta che si usa un ponte di comando scusate una battle station della nave si riduce sempre di uno il cursore sparo con i cannoni ridico di uno l'energia subisco un colpo mi servono gli scudi a basso di uno gli scudi ricordatevi che quando inizierate uno successivo automaticamente se un reattore dei due è in funzione risaliranno tutti a uno ma non oltre quindi a meno che non abbiate un ingegnere sempre uno o più personaggi nel reattore questi arriveranno a un massimo di uno e non saliranno mai rimarranno lì la velocità invece è dal ponte di comando nel ponte di comando il pilota fa un tiro di dado voglio continuare a andare a velocità uno però voglio cambiare rotta spreco un punto di elma oppure perché no in questa azione no uno di velocità non ci basta per scappare ci serve aumentare la velocità alzo la velocità a due che non scenderà più questa rimane fino a che non viene abbassata e porto questo il cursore qui a zero perché ovviamente ho usato l'energia dell'elma se invece volessi dire la velocità fosse a tre è possibile spendere soltanto un'azione e mandarla direttamente a zero per fermare la nave stessa cosa se si farà un'azione d'attacco io dovrò utilizzare un punto dei guns delle armi che ci sono a bordo e più punti ho più dadi tiro quindi se ho due punti e vado a fare un attacco quella volta lì a quel turno tirerò ad esempio due dadi se avessi potere tre ne tirerei tre quattro e così via quindi il colpo sarebbe più potente sparo un colpo ovviamente sempre levo uno di energia quindi nel turno successivo iniziano a scalare i dadi subisco una ferita oltre a fare il tiro per vedere se riesco a ridurre il danno levo anche un punto shield e questo è praticamente come funziona la gestione delle risorse a bordo della nave la parte perché uno potrebbe dire ma bel gioco sì però è il solito gioco operativo la parte più figa ragazzi che questo me l'ha fatto chiede subito appena l'ho visto in contemporanea noi ci si muove anche nello spazio perché quello che succede a bordo della nave muovere i personaggi andare nei vari settori riattivare l'energia e tutto quanto c'è anche una controparte nello spazio perché la nostra nave si muove come vi ho detto se all'inizio del turno c'è sempre il movimento della nave movimento dei missili movimento dei personaggi e movimento dei mostri quindi la prima azione da fare nel caso noi siamo qui anche qui non ci si può muovere in diagonale ricordatevelo non ci si può assolutamente muovere la nave che deve andare avanti e tutt'al più cambiare rotta e cambiare rotta a questo punto ovviamente si può muovere di una casella accanto però se la nave punta in avanti non si può spostare così accanto fare uno slide avete capito o muoversi all'indietro la nave ovviamente va sempre avanti e bisogna fare un'azione per cambiare ruotarla e cambiare la direzione comunque se la nostra nave sta andando a velocità 1 all'inizio del turno prima di tutto prima della fase dei giocatori si muove in avanti di 1 di una casella nella mappa spaziale facciamo conto che quest'altro cursore che ho messo sia una nave nemica che a sua volta va a velocità 1 e si stanno per attaccare se io volessi sparare con cannoni ancora una volta il soldato deve essere a bordo nella stanza dei cannoni fare un check su difficoltà se riesce a superare il check quindi per vedere se spara con l'arma che il check è dato il valore del check è dato dalla distanza ovviamente senza contare la casella della vostra nave quindi contando la distanza è 1 2 3 4 per colpire questa nave la difficoltà è 4 più il doppio della velocità a cui sta andando la nave nemica sta andando a 1 quindi 2 1 2 3 4 più 2 6 al solito il pilota dovrà tirare i suoi dadi con tutte e due dadi fare almeno un 6 e in più dovrà aggiungerci la sua abilità scusate il soldato dovrà aggiungerci la sua abilità per sparare con i cannoni per vedere se la prova è superata vi ricordo come detto prima che più è alto il potenziale dei cannoni perché se avete uno di potere nel cannone andrete a fare un tiro di dado con i due dadi classici però potreste aggiungere più dadi nel caso abbiate più cannoni perché quando si va a fare uno sparo del genere si va a fare un'aggiunta di dadi che nel caso ci siano 3 punti energia dati e cannoni i dadi che andremo a tirare non saranno 2 ma saranno 3 a quel punto la nave nemica bisogna vedere quanto ha il valore di scudi perché se ha 0 tutti i danni che sono qui passano ed entrano se invece dovesse avere almeno un valore 1 di scudi il gioco dice che facciamo conto che questa nave ha 2 di potenziale quindi tira 2 dadi e quest'altra nave invece ha un valore di scudi di 1 si tirano tutti i dadi insieme quindi i 2 di attacco della nave più uno scudo del nemico si prende un altro dado e si vanno a tirare quindi magari tiro i 2 dadi della nave che fanno 5 più 1 6 e poi tiro il dado questo qui per lo scudo della nave quindi un terzo dado semplicemente lo potrei tirare come quest'altri che ha avuto un 5 ok quindi il gioco cosa ci dice quant'è il valore di scudi di quella nave nemica e il valore di scudi è 1 quindi io devo levare i risultati più alti quindi avendo un valore di scudo di 1 devo levare il primo risultato più alto che è uscito quindi un 5 però mi è andata male perché nel check del tiro del dado della nave lo scudo non ha funzionato perché ha fatto un valore alto e quindi anche togliendo il 5 rimane il 5 che gli ho dato io col mio tiro e praticamente il danno non è ridotto però se fosse uscito un 1 gli avrete avrete otto il 5 e gli avrà lasciato un 2 di danno e questo è il valore degli scudi ovviamente nave di qua che subisce danni deve questo deve abbassare un livello di energia dai cannoni questo deve abbassare un livello di energia dagli scudi e quindi vari ingegneri a bordo delle navi dovranno riandare nel generatore della nave e praticamente alzare un'altra volta facendo ritiri tutto quanto rialzare il potenziale perché se no la prossima volta che la nave attaccherà magari avrà potenziale 1 tirerà un dado soltanto e magari quest'altra avrà un valore di scudo di 1 e come vedete il potenziale si abbassa per tutti e due avete visto che questa qui era la nave rappresentata come si fa per sapere dove ha colpito quando sparate sia con i cannoni che con i missili come si fa a sapere dove avete colpito la nave nemica o dove la nave nemica ha colpito voi ovviamente si dà conto che i cannoni sono sempre indirizzati sul fronte della nave quindi a meno che l'avventura non vi dica qualcosa di particolare difficilmente ci saranno cannoni che sparano lateralmente comunque se sparate una nave li sparerete sempre nella direzione dove sparano i cannoni quindi se siete faccia a faccia non li potete sparare al sedere o al fianco li sparerete in faccia facciamo caso che un colpo raggiunga la nostra nave il gioco dice che la regola dovete prendere sempre il punto centrale dove arriva il colpo è sempre il numero 7 che ora vi dico come funziona dal 7 in giù quindi da scusate se il 7 è centrale dal 6 in giù sono tutti i colpi che si spostano a babordo della nave quindi da questa parte a sinistra invece dall'8 in su sono tutti i colpi che si spostano a tribordo quindi sul lato destro della nave per capire dove il danno ha fatto centro voi andate a tirare i soliti dadi i due dadi i due dadi sono sempre quelli di tutto il gioco ragazzi tutto quanto voi andate a tirare i due dadi e vedete il risultato che è uscito se fosse stato un 7 il colpo era esattamente dove avevate mirato perché all'inizio lo dovete dire voi potreste dire miro ai cannoni oppure miro al ponte di comando oppure miro all'hyperdrive lo dovete dire voi il 7 è esattamente dove avevate mirato diamo conto che voi avete mirato centralmente nel vano dei missili con un 7 avete colpito il vano dei missili mentre con un 5 come vi ho detto essendo più basso di 7 vi spostate di 2 perché il 5 è più basso di 2 rispetto al 7 vi spostate di 2 caselle ababordo quindi se questo è un 7 questo sarebbe stato un 6 e avreste colpito l'elm invece spostandovi ancora di 1 e andando giù a 5 non avete colpito nulla se la nave fosse stata più larga anche col 5 sareste riusciti a fare un colpo quindi questa è una meccanica molto carina che ti dice sì il colpo è andato a segno ma nello spazio sapete è un po' difficile prendere al millimetro dove è mirato quindi il colpo è andato a segno ma ha colpito veramente dove volevo oppure no e queste ragazzi veramente sono tutte le regole per giocare di base e questo invece ragazzi è l'advanced rulebook che è la versione cioè 32 pagine contro le questo è il teso tipo 100 160 una cosa del genere sembra un manuale di un gioco di ruolo che qui invece trovate le cose molto più dettagliate ad esempio nel gioco di base non c'è il cloaking della nave vi faccio un esempio oppure il soldato uno dice però io scelgo il soldato faccio solo 3 azioni e no invece qui dietro il soldato ne fa 20 di azioni differenti ci sono molte più cose da fare molte 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 di più però questo è un manuale che lo stesso creatore del gioco vi dice ordinatelo perché insomma ampia ci sono 50 50 missioni nuove cioè c'è una campagna che vi dura 10 anni però prendetele soltanto quando cercherete una sfida in più al gioco di base e tra l'altro è fatto veramente molto bene perché è bello grande ci sono delle immagini dentro da paura quindi è un pezzo che secondo me se vi posso dare un consiglio ordinatele tutte e due visto che avete preso Battle Stations ordinate anche questo tanto non è che costi tanto di più poi non so se addirittura in alcuni pacchettini offerta ve li danno anche insieme addirittura comunque voi ordinatelo poi lo mettete da parte nel caso finite la prima campagna userete quello ragazzi in conclusione non vi fate mettere paura del video magari particolarmente lungo o delle tante regole spiegate perché questo è un gioco che vi muovete su due mappe ve l'ho detto la cosa bella è quello che ve lo giuro morissi perché se fosse stato un gioco a bordo della nave è bellino con tutte le meccaniche l'ingegnere lo cercava un gioco cooperativo a tutto a bordo della stessa nave però avrei detto si è carino però finisce lì ma c'è anche la parte fuori cioè voi dovete avere ce ne quattro ad occhi due da tenere sulla plancia della nave e due da tenere dalla partita e poi ganso perché la nave che voi andete a creare è modulare quindi l'avventura di base ve ne fa fare una ma nel gioco avanzato la potete creare come vi pare anche di 30 tile grossissima tutta insieme immensa però ricordatevi che una nave più è grande più è dispendiosa come energie è più difficile da ma capo lo butto giù è più difficile da girare all'interno perché una nave grandissima i personaggi si muovano di 6 non è che si muovano di 150 almeno che non abbiano un jetpack o abilità particolari quindi sarà anche più difficile da girare e in più dovete tenere conto del tile che avrà creato il dungeon master perché anche lui muoverà delle navi e soprattutto della mappa galattica quella dovrete tenerla sempre sott'occhio perché tutto quello che succede nello spazio avverrà lì la cosa bella nelle regole avanzate del gioco quindi non in quelle che vi ho elencato qui c'è addirittura una modalità per entrare in orbita con un pianeta ed è una figata non si parla ovviamente di stelle sarebbe impossibile però nei pianeti è una figata perché quando la nave si avvicina troppo ad un pianeta se entra in orbita rischiate di perderla di distruggerla quindi oppure di finire in orbita col pianeta e quindi perdere la rotta o perché no il problema che magari si vadano a sabotare dei sistemi interni della nave quella non ha figata dovrete sempre stare molto attenti alla mappa stellare e a quello che succede da bordo io se ragazzi gli devo dare un voto questo battle stations se gli devo togliere qualcosina glielo tolgo unicamente perché diciamo che l'ambientazione cioè mi piace o non mi piace è un po' strana questa cosa qui mi piace perché la classica ambientazione è anni 80 un po' come ci si immaginava la fantascienza negli anni 80 ma anche prima anche prima secondo me si va anche nel 60 70 sembra di rivedere Star Trek o anche una specie di ora di Firefly magari no però di Farscape sì cioè sembra di rivedere un po' quelle serie un po' capito no che ci sono queste razze aliene a forma di elefante a forma di leone anche vecchi video giochi dell'amica e cose del genere e da quella parte è bella che rimanda molto agli anni 80 io però lo sapete che da una parte sono fanatico dell'ambientazione all'alien l'ambientazione spaziale con tecnologia anni 80 vecchia con vecchi sistemi a bordo che sembrano dei computer indosso che non si sa come un computer schifoso così faccia volare un cargo stellare però a me piace l'ambientazione e soprattutto l'ambientazione dove tutti siamo umani a me vedere troppe razze aliene strane non mi sconfinfera più di tanto però ci sta bene cioè ti puoi creare un'ambientazione che a me particolarmente non piace però amalgamata tutte insieme viene fuori qualcosa di bello e credibile quindi comunque dico sì però sai che ci sta bene quindi comunque è riuscito a prendere anche me questo gioco che è un'ambientazione del genere non mi fa impazzire quindi se devo dargli un voto li do perché secondo me se lo merita tutto li do un 9 su 10 e ragazzi se cercate un gioco in cooperativa tanto voglio fare una battuta ad un amico mio apri e chiudo una piccola parentesi ci hanno rubato l'idea quando si diceva bisogna fare il gioco per computer o il gioco da tavolo tutti a bordo della stessa nave ci siamo fatti un pochino mette in tasca ora scherzi a parte ovviamente il gioco è bellissimo già lo vedete mi brillano anche l'occhio quando ne parlo perché lo volevo ma non lo conoscevo cioè io speravo che uscisse una cosa del genere ho googlato un po' ho detto giochi nave spaziale su google tutti sulla stessa nave è uscito visto qui ho detto fammi vedere no cioè ma io me lo so è uscito frappolini è uscito 6 anni fa e io non ne sapevo nulla quindi ragazzi 9 su 10 bellissimo trovate link in sovrimpressione e anche in descrizione trovate sempre dove comprarlo dove acquistarlo più date un'occhiata al sito della gorilla games perché ci sono tutti quanti i giochi che sono usciti in più hanno fatto una espansione per questo gioco che dio li benedica anzi due espansioni la prima tutte quante le astronavi del gioco in 3d che potete mettere sulla mappa stellare le voglio e in più un'ambientazione per spostarsi sui pianeti tre mappe non giocate più sulle stazioni orbitali sulla vostra nave sulla mappa galattica ma potete sbarcare sui pianeti c'è servirà un tavolo da 50 metri potete mettere anche la mappa del pianeta e muovere i personaggi lì mentre la nave in orbita continua a fare altre cose cioè immaginatevi che un gruppo di amici combatte le battaglie spaziali stellari e voi siete sul pianeta intanto risolve la missione butta di fuori bellissimo e quindi lo trovate link in descrizione per acquistarlo prendetelo perché se vi fate mancare questo in libreria non siete amanti di giochi da tavolo perché ovviamente è una cosa più che bella unica ragazzi se ci volete supportare ovviamente trovate sempre in descrizione il nostro type oppure la nostra casella postale nel caso vogliate mandarci un gioco da tavolo o qualcosa comunque anche farci un regalo ci faremo sempre un video di ringraziamento e tutto quanto casella postale ovviamente poi se vi volete iscrivere all'instagram della nostra pagina maledetti dadi dove mettiamo tutte le volte che ci arriva un gioco piccole pillole io che bene o male cerco di tenere la giornata almeno una, due, tre volte a settimana anche con idee impressioni e cose del genere insomma ragazzi un 9 su 10 vale veramente da morire ancora grazie alla Gorilla Games per avercene fornito una coppia per la recensione e questo è un gioco che davvero metto nella mia top 10 ve lo dico sincero è veramente bellissimo fatemi sapere cosa ne pensate ciao alla prossima